Febbre da partita interna a Campobasso. In città è una corsa al biglietto con la prevendita che stamattina tocca. Una quota di poco superiore alle 3500 unità è facile immaginare come si possa arrivare, perché no, anche a 5000 spettatori. Numeri da capogiro per una quarta serie. La squadra rosso-blu è prima dalla partita di andata quando vinse a Notaresco grazie ad un gol di Grandis e agganciò in vetta la San Benedettese. La settimana successiva i rosso-blu avrebbero poi conquistato la vetta solitaria, un traguardo tuttora mantenuto con forza dai calciatori del Campobasso. Nell'ambito di una squadra, una regione, ieri dirigenza e presidenza e due calciatori hanno visitato il comune di Baranello accolti nel palazzo Ducale in Largo Zurlo dal sindaco di Chiro, dal vice Petrecca e dal consigliere comunale di Campobasso ma originario di Baranello, Domenico Esposito. Presente l'ex calciatore rosso-blu di Risio e uno stuolo di bambini del posto. Fra le storie ammirevoli di Baranello quella di Domenico Mastrangelo, giovane del posto che ha preso il treno da Trieste per recarsi domenica scorsa al Riviera delle Palme e commuoversi nel corso della partita. Emozioni vissute provate da Domenico che un giovane molisano colpito da una grave disabilità alla vista ma evidentemente la passione forte per il Campobasso è andata molto oltre. Non sono mancati poi i momenti di convivialità riservati dalla comunità di Baranello alla dirigenza rosso-blu. FC Matese Termoli potrebbe anche scrivere una sentenza domenica pomeriggio. I locali non vogliono arrendersi al ritorno in eccellenza. Gli adriatici con una vittoria potrebbero anche chiudere la pratica salvezza prima del tempo. Molto dipenderà da un incrocio di risultati. Non ultimo quello fra Senigallia e Vasto Girardi. Marmorini ha elogiato molto gli avversari di turno che vengono ad avviso del tecnico appena dopo le prime tre in classifica per valore. Vasto Girardi con tante defezioni nelle marche fuori per squalifica Ruggeri, Cecuzzi e Gargiulo. Una difesa da inventare per il tecnico che insieme con la squadra proverà a tenere ancora vive le speranze play out a 270 minuti dalla fine.